Un gradito ritorno e un giovane talento. L'Arezzo ha presentato alla stampa Massimiliano Benassi e Artum Yanga. Per il primo si tratta di un gradito ritorno da Lecce, società dalla quale Benassi è tornata ad Arezzo con la formula del prestito. Insieme al portiere è stato presentato anche Artur Yanga, attaccante o per meglio dire esterno offensivo classe 1996, reduce dall'esperienza più che positiva al Siena. Io sono venuto qua cercando di mettermi a disposizione alla squadra, dare sempre il massimo e poi si vedrà. Io come ruolo faccio l'esterno d'attacco, sono uno giocatore di corsa. Naturalmente l'Arezzo sarà inserita nuovamente nel girone B, potrebbe essere un girone con tanti derby, visto che anche tu l'anno scorso eri proprio in questo girone, che sensazioni hai in vista anche di affrontare nuovamente magari Siena e altre società toscane? Una bella cosa, anche l'anno scorso ho giocato tantissimi derby, sono partite molto belle da giocare e sono contento. Poi con il Siena, quando giocherò con il Siena darò il massimo, cercherò di fare il gol si posso e così, nel calcio è così. L'errore più grande che uno possa fare è pensare a quello che è stato, ormai è acqua passata e quindi ci concentriamo sul nuovo campionato, il nuovo obiettivo della squadra, di fare bene perché poi giustamente quello che fa in passato la gente dimentica subito. È giusto che sia così, ma questa è la vita e il calcio e quindi mi impegnerò al massimo per rifare un grande campionato. È normale che due anni fa c'era l'entusiasmo perché era il ripescaggio, quest'anno ci sarà l'entusiasmo perché stanno arrivando qualche giocatore anche importante, quindi è normale che la città ha bisogno. La città, noi faremo di tutto per portarla allo stadio perché sono solo i risultati. Io posso parlare della squadra e spero che si crei un grande gruppo, un gruppo non di belle donne ma di jedde che ha voglia di vincere le partite.